New Life Santa Margherita Abbiamo con noi Alberto Ampe, match winner di San Lorenzo Carasso Raccontaci un po' la partita Pistolero Una partita difficile contro un ammessario che nel primo tempo non ci ha impensierito Però ha provato a aumentare difficoltà, noi siamo stati bravi a continuare a provarci E nel secondo tempo abbiamo portato a casa i tre punti grazie alla mia punizione Benissimo, raccontaci un po' il gol Il gol grazie a un lancio del nostro difensore siamo riusciti a sovrare la tre quarti Abbiamo conquistato una punizione e mi sono preso la responsabilità e me l'ho messa dentro Bravo, complimenti Cosa mi dici sul Carasso? Il Carasso è una squadra ordinata che difende bene, ha molta esperienza dietro Potrà fare un buon campionato, noi siamo stati bravi a portare a casa i tre punti E cercheremo di farlo ogni domenica perché è il nostro obiettivo, fare sempre bene e sempre meglio Dici qualcosa dei tuoi compagni di squadra, dai I miei compagni di squadra sono stati fondamentali per il raggiungimento di questa vittoria Corro da te tranquillo Una parata importante del nostro portiere Alberto Inglese, quello che mi sta intervistando Ci ha salvato dal pareggio Però siamo stati tutti uniti, ci abbiamo creduto fino alla fine E al carattere che vogliamo mettere in campo ogni sabato per continuare a fare sempre i tre punti Solo i tre punti E prima di fare gol, come la carichi? Grazie Alberto Grazie a te Alberto